I giorni sono tutti gli stessi, i giorni sono tutti gli stessi, sei tu che poi gli dai un tocco particolare, sei tu che gli dai un sapore particolare, ci saranno giorni, cara Elisa, in cui Federico perde una desirazione, magari ecco, non farà emeggere il suo sorriso, sarai tu a usare una forte dose di sale, di buonsenso, di sostegno, di incoraggiamento, affinché ecco, possa riemeggere il sorriso e il codificio. di Federico, ci saranno momenti in cui Federico possibilmente magari si sentirà ecco troppo appesantito, tante situazioni, sarai tu il sostegno, il sale tu non lo vedi più, quando lo metti tu nelle pietanze, quando lo metti ecco nell'acqua, tu non lo vedi più il sale, eppure a un certo punto si sente il sapore, sei tu che senza farlo scomparire, lo farai sentire sempre il protagonista della vita, della vostra figlia. Se tu a un certo punto devi dare sapore, gusto, alle cose, al quotidiano, agli avvenimenti, ai momenti, tu hai questo ruolo, perché tu, come ogni donna, hai ricevuto una capacità, un indole, che a un certo punto si distingue dall'uomo e in queste esperienze si ritrova ad essere fondamentale. Io, Federico, accolgo te, Elisa, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Elisa, accolgo te, Federico, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti nella mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.